A poco più di due mesi dall'ostensione della Sindone, l'arcivescovo Cesare Nusiglia ha presentato alla stampa le iniziative per le quali il Consiglio regionale è uno dei media partner legate all'evento che condurrà a Torino milioni di pellegrini. Già raggiunte le 600.000 prenotazioni, nel periodo dell'ostensione verrà anche esposta l'opera del Beato Angelico, compianto sul Cristo morto, e il Papa sarà a Torino il 21 giugno.